Ciao a tutti Leopardi, siamo qui con il coach Stefano De Grada, fresco vincitore della Eroa September Cup, l'elettore di San Marese e Pavia. Coach, un pensiero sulla partita e su questo torneo, cosa è servito a voi? Avete fatto sicuramente una buona prestazione oggi. Sì, oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione. Il torneo è stato molto bello, molto ben organizzato, squadre competitive. Oggi avevamo davanti una squadra molto più fisica di noi, molto intensa e siamo stati molto bravi a pareggiare la loro intensità e a metterle in difficoltà anche col pressing, soprattutto al primo tempo. Stiamo ancora sistemando alcune cose, abbiamo cambiato i due playmaker della squadra, quindi il resto della squadra è la stessa dell'anno scorso, però con i due playmaker nuovi abbiamo qualche meccanismo ancora da aggiustare, però siamo contenti perché oggi abbiamo messo la giusta intensità contro una squadra che atleticamente ci ha messo comunque in difficoltà. Grazie mille coach, ci vediamo in campionato e come sempre Leopardi Pride! Grazie mille!